Benvenuti a Sicilia Wai TV, oggi con noi Nello Musumeci. Presidente, buon pomeriggio. Grazie, buon pomeriggio a voi e grazie dell'invito. Il leader della destra alleanza siciliana è con noi. La prima domanda che vorremmo fargli è come intende risolvere e affrontare questo scoramento che hanno i siciliani nei confronti della politica. Intanto dobbiamo trasmettere fiducia. La fiducia e la speranza nasce anche dalla credibilità degli uomini. Non è vero che cresca il partito dell'antipolitica, cresce il partito di chi chiede che la politica sia pulita, trasparente, efficiente e che non serva soltanto ai politici. Ecco, io credo che dobbiamo fare la differenza fra mala politica e buona politica. In un paese civile democratico non c'è posto per l'antipolitica. L'antipolitica significa l'anarchia, stare fuori dal sistema, significa rifiutare la logica democratica. E' invece il caso di mettere a confronto la buona politica, quella fatta di regole, di virtù, di impegni concreti. E quella, la mala politica fatta di clientela, fatta di malversazione, fatta di collusione con la criminalità, fatta di parassitismo e fatta di inefficienza. Noi ai siciliani dobbiamo dare la speranza che la buona politica venga sulla mala politica. Insomma, per usare una parabola del Vangelo, crescono assieme zizzania e frumento. Però alla fine la zizzania diventa soltanto un fascio di erba destinata al fuoco e le spighe diventano pane per le nostre menze. Qualche settimana fa lei ha dichiarato che bisogna fare tutti un passo indietro per farne fare uno avanti alla Sicilia. In che modo? Certo, io sono convinto che questo non sia il momento giusto perché i partiti possano dare sfogo alle pur legittime loro ambizioni, qualche volta coniugate con spiriti e spinte improntate ad arroganza. Tutti abbiamo il dovere di fare un passo indietro, rinunciando a sciocchi protagonismi, facendo un bagno di umiltà, capendo che se siamo in queste condizioni gli errori più o meno e le responsabilità più o meno appartengono a tutti e abbiamo il dovere di ascoltare di più la gente, di saper leggere quel che si muove sul territorio e di mettere assieme le forze migliori per costruire un progetto diverso ed alternativo. L'esempio delle prossime elezioni regionali mi sembra assolutamente pertinente. Ancora oggi, a distanza di 70 giorni dalla presentazione delle liste, i siciliani non sanno formalmente e ufficialmente chi sarà a rappresentare il centro-destra e il centro-sinistra. Ecco, questo appartiene ai giochi, ai bizantinismi dei partiti e tutto questo non serve. La gente vuole chiarezza, dai partiti vuole assunzione di responsabilità e noi abbiamo tutti il dovere di fare un passo indietro, rinunciando agli egoismi personali, alle pur legittime ambizioni, ma di consentire alla Sicilia, quindi agli interessi superiori, di diventare gli unici protagonisti dei futuri impegni politici ed elettorali. Da ottobre al giugno 2013 si apriranno scenari elettorali di vario genere. In quale la vedremo protagonista? Anche questo si raccorda con la domanda e la risposta di poco fa. Veda, in politica bisogna saper fare il soldato e bisogna essere pronti a fare anche l'ufficiale. Poi, a seconda delle esigenze, ognuno si impiega per essere utile al risultato finale. Io alcune volte ho fatto l'ufficiale, ricordo di essere stato per dieci anni presidente della provincia di Catania e per qualche anno ho fatto anche il militare di truppa. Si può essere utile in politica alla gente e al territorio anche senza bisogno di avere ruoli di particolare prestigio e di particolare responsabilità. Io non so quello che accadrà nelle prossime settimane alle elezioni regionali e poi alle politiche e poi alle comunali a Catania e poi alle provinciali. Sono a disposizione di chi vorrà pensare che il contributo mio e della mia parte politica della destra alleanza siciliana possa essere utile ad un gioco di squadra. L'importante è che sia chiaro il gioco della squadra, che sia chiara l'identità dei compagni della squadra e che siano chiari gli obiettivi che debbano essere esclusivamente quelli legati al riscatto e alla rivincita della Sicilia. Presidente della provincia regionale, è stato un grande presidente della provincia regionale, gli ha dato dignità come forse nessuno prima di lei. Come interpreta e come vive i tagli previsti dalla spending review? Io credo che siamo passati da una stagione di allegra gestione ad una stagione di assurda difficoltà operativa. Il falso moralismo dei tagli nella pubblica amministrazione non mi sembra utile a sapere e a poter distinguere ciò che appare superfluo da ciò che appare essenziale. Sono convinto, tanto per essere ancora più chiari, che abolire le province non risolva assolutamente il problema, perché i dipendenti restano lo stesso. Gli obiettivi istituzionali debbono essere assecondati lo stesso. Se si sprammia qualcosa sul gettone di presenza e sulle indennità, ma quelle possiamo benissimo tagliarle a partire da ora senza bisogno di sopprimere le province. Voglio dire che in Italia ancora ci sono migliaia di auto blu, ci sono enti strumentali con consigli di amministrazione, consulenti, gente inutile, grattapancia, mangiapana a tradimento. È da lì che dobbiamo partire. Non credo che la revisione della spesa possa essere condotta con grande senso di responsabilità se si parte da pregiudizi. E allora anche le province facciano una cura dimagrante, ma la facciano anche i comuni. Sciogliamo i piccoli comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, incoraggiamo l'associazionismo fra i comuni, cerchiamo di capire quello che succede nelle regioni che sono diventate davvero tritacarne per migliaia e migliaia di miliardi. Una operazione in questo senso io credo che possa restituire credibilità alla politica e un pizzico di speranza ai cittadini. La Sicilia potrà fare ancora la voce grossa? Per fare la voce grossa la Sicilia deve essere credibile. Noi abbiamo il dovere di pretendere che il governo centrale, quindi Monti in questo caso, abbia rispetto per l'autonomia siciliana. Ma se l'autonomia siciliana in 60 anni è diventata soltanto la foglia di fico per nascondere le vergogne, è diventato soltanto l'alibi, il pretesto, perché ognuno potesse fare ciò che riteneva utile a se stesso fare, beh è chiaro che non possiamo fare la voce grossa. Noi possiamo protestare contro Roma soltanto se siamo consapevoli di avere noi per primi fatto fino in fondo il proprio dovere. Siccome la Sicilia il proprio dovere non lo ha fatto, i nostri nemici prima di cercarli a Roma bisognerebbe cercarli a Palermo, bisognerebbe cercarli a casa nostra, perché l'ascarismo e il mercato delle coscienze è un'attività vecchia quanto l'uomo. Quindi al governo centrale chiediamo di avere rispetto per la specificità autonomistica della Sicilia, ma noi siciliani e i parlamentari regionali dobbiamo chiedere per primi di fare fino in fondo il proprio dovere. Quando l'autonomia sarà diventata una opportunità di crescita e non un privilegio per pochi, allora saremo in condizione anche di aprire un condensioso con Roma perché ci dia quel che ci deve e noi faremo la nostra parte nei confronti del governo centrale, perché autonomisti sì, ma autonomisti unitarie. Quindi l'autonomia siciliana non può e non deve assolutamente mettere in discussione il valore dell'unità nazionale, a parte che in Italia non ci siano figli e figliastri e noi dobbiamo lavorare perché si sia tutti con pari dignità e con pari opportunità.